Bella edizione del premio Unire di Galoppo ad Agnano, listed di fine anno con una moneta di 41.800 euro al traguardo, che aveva raccolto al via i cavalli delle migliori scuderie italiane di migliori fantini. Si impone Time to Choose ai comandi di Fabio Branca per i colori milanesi della FV di Felicevilla ed il training di Alduino Botti. Una corsa comandata da Priore Philippe, ma che in retta vedeva passare al comando Time to Choose fino a tagliare il traguardo della vittoria, come spiega il fantino Branca ai nostri microfoni. La corsa mi è venuta bene. Prima non pensavo di mettermi così in corsa, pensavo di stare un po' più dietro, però dopo la partenza mi sono ritrovato subito sotto, avevo avuto un percorso pulito, un'andatura regolare, poi ho fatto gli ultimi 400 in progressione, un cavallo buono. Terzo Right Connection con mezza distanza da Genovese, secondo con una distanza in mezza, che ha visto l'attore romano Maurizio Mattioli ritirare ad Agnano in premiazione il trofeo Anact per l'allevatore Francesca Folco. La giornata ha visto anche molte iniziative natalizie organizzate nel parco, tra cui la consegna di doni solidali e ferri di cavallo portafortuna, offerti a circa 100 bambini disagiati provenienti da associazioni Ollus del Napoletano. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente dell'ippodromo di Agnano Pierluigi D'Angelo, il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli e il presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Alessandro Fucito, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Un spazio fruibile dove vi è sì l'ippica, ma vi è anche l'opportunità per le famiglie, per i giovani e in questo momento anche di solidarietà verso i piccoli, i minori, a volte coloro svantaggiati della città, quindi un momento significativo, utile e di grande stimolo per le attività collettive.